Dopo due mesi di zona rossa, di scuole e negozi chiusi, il Covid finalmente sta allentando la sua morsa sul territorio di Termoli. Sono molto incoraggianti i risultati dello screening della popolazione su base volontaria organizzato dal Comune di Termoli nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. Nessun positivo su 1031 tamponi effettuati in modalità drive-thru grazie alla disponibilità della misericordia nella sede di Via Biferno. Un risultato che fa ben sperare e che invita a continuare a tenere alta la guardia. Si tratta del secondo screening organizzato dal Comune. In questa occasione il Sindaco Francesco Roberti aveva rivolto l'appello a partecipare soprattutto agli studenti in vista del rientro in classe. Prossimo e ultimo appuntamento con lo screening per il momento ci sarà nelle giornate di venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 aprile. Per prenotarsi bisogna andare sul sito internet del Comune di Termoli. Resta invece ancora in sospeso l'apertura del palazzetto dello sport di Piazza del Papa che è stato trasformato dal Comune in punto vaccini in tempi record. All'interno sono state già sistemate le sedie distanziate per l'attesa e le postazioni con percorsi ad hoc e cartelli con le indicazioni. Poche settimane fa l'inaugurazione sembrava imminente e poi il nuovo stop. Il problema principale sarebbe la fornitura dei vaccini stessi. Fino a quando non arriverà un numero adeguato che permetterà di far decollare le immunizzazioni, la struttura non verrà utilizzata.